siamo nel laboratorio di salvatore qui c'è vittorio grande vittorio buongiorno ragazzi qui siamo con salvatore noi siamo un'azienda bellissima salvatore sempre modesto ma è bellissimo questa azienda queste donne meravigliose nostro reparto dove le tre marie si occupano di fare il libido gli impasti e adesso stiamo finendo la produzione in questo momento stiamo pulendo questo è il reparto principale dove facciamo i semi lavorati quindi le creme le grasse in quelle macchine lì lavoriamo in sottovuto e facciamo tutte le preparazioni